Quale sarà il filo conduttore di Braccialetti Rossi 3 a livello musicale? Penso lo stesso che Campiotti ha scelto per la sua storia, è un'evoluzione naturalmente, i ragazzi sono cresciuti e stanno assaporando la libertà fuori dalle pareti dell'ospedale e quindi anche le canzoni per necessità ma anche per volontà mia e perché ne avevano bisogno respirano un'area nuova, un'area di esterno e di libertà. Io sono presente fin dall'inizio, poi nei limiti di quello che mi è permesso e anche per il tempo che poi serve naturalmente per scrivere le canzoni, unire la band, andare in studio di registrazione, e ecco quello lo faccio nella mia città che è Milano, però ogni anno io la prima settimana parto con i ragazzi in Puglia, si sta sul set, si capisce che cosa si andrà a fare per i mesi successivi e poi alla fine diciamo che le conosco bene le fasi di Braccialetti Rossi. Il tipo di impegno di Braccialetti è un impegno abbastanza totalizzante, è bellissimo, a tratti faticoso perché coinvolge tante sfere emotive, sia quella del mestiere e tutto ciò che ne comporta, ma anche quella dell'affetto, delle relazioni in particolare con gli attori, con i ragazzi, condividere con loro ogni scelta, perché poi alla fine loro sono un po' i portavoce naturalmente della storia e anche delle canzoni e quindi è un lavoro che non si limita né al set e nemmeno agli eventi promozionali, ma è un lavoro che dura per molti mesi all'interno di un anno e anche questo Braccialetti 3 sarà così, abbiamo cercato di alzare l'asticella e speriamo di esserci riusciti. Io a Braccialetti Rossi ho dato le canzoni e più che altro è ciò che le canzoni hanno guadagnato dalla gente che è speciale, cioè io sono stato ricambiato di un affetto inaspettato e sinceramente a 40 anni non mi aspettavo di incontrare un pubblico sicuramente per me anomalo, ho sempre lavorato pensando ai miei coetanei, alle storie che probabilmente potevano essere affini appunto a quelle mie, in genere le ho pensate sempre destinate a qualcuno più o meno simile a me appunto, scoprendo poi che invece tanti lati simili li ho incontrati anche negli adolescenti che hanno seguito Braccialetti Rossi e quindi quello che io ho guadagnato da Braccialetti Rossi è un affetto e una stima insperata e inaspettata da parte di una generazione che forse conoscevo poco, che oggi conosco un po' di più. In questo momento simili è una canzone di Laura Pausini e quindi sarebbe giusto che la raccontasse lei, io te la posso raccontare da autore, è una canzone che ho scritto insieme a Edwin Roberts, che è uno dei miei collaboratori con cui ho lavorato nelle ultime due serie di Braccialetti, però è particolare il fatto che tu me lo chiedi in relazione a Braccialetti Rossi, perché ovviamente nel video c'è la presenza di alcuni dei ragazzi, sono Carmine, Aurora, Brando e Denise, ma soprattutto perché simili come testo è davvero derivativo della mia esperienza di Braccialetti, simili sono due persone, se proprio bisogna svelarlo, che fortemente ispirate a Braccialetti Rossi, il legame di cui ti parlavo prima tra di noi, tra le persone che ci hanno lavorato, spesso ci ha dato la sensazione di essere molto simili uno con gli altri, non c'è bisogno di chi ti dica le persone specifiche, ma insomma quello che abbiamo vissuto in Braccialetti Rossi ci ha molto accomunato e ci ha molto reso simili nella gestione dell'esperienza e dell'emotività che questa esperienza ha generato, e quindi sì, simili è figlia di Braccialetti Rossi. A spettacolo che spettacolo, un abbraccio e un saluto da parte di Nicola Agliardi, a presto.